E allora ragazzi sono Flame e bentornati! Per chi se lo chiedesse questo non è un tutorial su come fare i gargarismi E lo credo bene! Mi dispiace deludervi ma... Beh, poi ragazzi potrei neanche farlo eh 3, 2, 1, GO! Gargarismi a parte ragazzi siamo su Pokémon GO! Ma non a caccia perché oggi voglio spiegarvi due cose Ovvero una come avere Pikachu come Pokémon Starter E la seconda come trovare i Pokémon leggendari Ovvero Zapdos, Malters, Articuni, Mewtwo Ma prima di cominciare ragazzi lasciate un bel mi piace Prima di arrivare a milioni di like per... No ragazzi ragazzi non per questo però se volete potete farlo Mew penso che al momento non ci sia ancora Non voglio dire una stronzata ragazzi perché non ne sono sicuro Ma per prima cosa ragazzi volevo farvi vedere i Pokémon che ho catturato finora E tra l'altro se ci fate caso attorno a casa mia non c'è niente Cioè non si muove neanche l'erba, non c'è nulla Un tossico ragazzi non ci fa fortuna qua attorno Quello che appunto ho catturato finora sono loro Ragazzi ho trovato un Pinsir al 205 non so come non so dove Cioè dove lo so Che tra l'altro che mi sembra una bestia Non so se sia raro trovarne uno al 205 a livello 5 Comunque ce l'ho ed è bello ed è... Cioè ma si può usare anche come trinciapollo a volte Per il resto abbiamo un Tentacolo all'85, un Doduo, uno Psyduck, un Beedrill, un Krabby Insomma ho preso veramente un sacco Tra l'altro che abbiamo anche un Magikarp Cioè guardate che bello Cioè ditemi voi se ne esiste uno più bello di Magikarp Madonna mia ragazzi è più bello dei salmoni che si comprano al mercato del pesce E' proprio quello che ci vuole Tra l'altro anche due Charmander, due Squirtle, un sacco di rattata Ragazzi come sapete i sorci abbondano sempre Insomma non so quanti diavolo ne ho, ne ho tipo 50 Zubat che ormai è peggio delle mosche d'agosto E' più probabile che trovate uno Zubat che una zanzara che vi punge il culo E per il resto ragazzi degli Lombrichi, dei Caterpie, dei Weedle e un sacco di Pigi Avevo trovato anche un Electabuzz Ma purtroppo sono andato sfigato come uno che si presenta da un V-Cumpra a fine saldi E quindi mi è scappato e le cose che ho detto sono state circa queste E tra l'altro ho perso anche un Eevee al 100 Cioè è proprio il gruppo di sfiga tutto insieme Vabbè comunque abbiamo Magikarp Come si permettono di dire che è patetico E tra l'altro che ho perso anche un Drauzi Adesso non lo trovo più Cerco di tenere lo smartphone un po' più in alto Altrimenti sembra che mi stia guardando linguine Che non è vero Che poi non so se si pronuncia così diversamente Comunque il nome è questo lo vedete Sembra Il formichiere zuppato nello zabaione Raga abbiamo anche un Crebby che come Magikarp Cioè anche lui è la vita Troppo bello dai raga ma come si fa Cioè non è Deve essere anche buono da mangiare ora che ci penso E comunque raga quelli che ho preso finora sono questi Non sono tanti ma per aver appena cominciato Diciamo che Ho già un Tentacle Passare giornate a fargli muovere Le lente di sotto I tentacoli Guarda che bello E per il resto Raga penso di avervi triturato le palle abbastanza Ok raga è arrivato finalmente il momento di svelarvi Come avere Pikachu come Pokémon Starter Come spiega quest'articolo Per trovarlo Per ottenere Pikachu Appena cominciate vi appaiono appunto attorno Bulbasau Squirtle Charmed Voi non dovete fare nient'altro che ignorarli E andare insomma un po' più avanti Un po' più indietro Insomma fare qualche metro Dopodiché appaglierà il vostro bene amato Pikachu Proprio lì bello fiero Proprio E avrete il vostro fantastico Pikachu Che diversamente è veramente difficilissimo da trovare Per quello che riguarda invece il Pokémon leggendario Mi sono documentato su qualche sito E da quello che ho capito Ah per favore mettetemi sotto quelli giusti No non c'è verso Vabbè raga fate finta che siano questi Perché non c'è verso Da quello che mi sembra aver capito Mew non dovrebbe esserci E per quello che riguarda Zapdos, Articune e Moltres Penso non si possono trovare Mewtwo è l'unico che mi lascia un po' perplesso Perché ci sono alcuni che dicono che si trova Altri che dicono che non si trova A parer mio raga Si può trovare Ma magari lo metteranno disponibile solo qualche volta In qualche determinato evento Poi raga come al solito ci sono tantissime scuole di pensiero E niente raga Io direi di concludere qui Spero di esservi stato d'aiuto in qualche modo Se volete vi porterò anche un video Dove insomma si va a caccia Ma non a caccia di lepre Per fare il salmì E lo credo E che dire raga Io direi che questo video posso terminare qui Se vi è piaciuto mi invito a lasciare un mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Se volete guardate la paglia di Facebook e Instagram Che lo trovate in descrizione o nei commenti come al solito E che dire raga Qui da Flame dai 3 Fucunprà Che ormai ragazzi ci fa un compagnaccio È tutto Bella raga Io mi chiamo TJ Ho volto a mi città Come se nota Che qui faltava già Casi che non reconozco al barrio Ha matato a mi madre Balas del adversario Voy a vengarla con los Grove Streets Desde Ryder Peak Smoke hasta Sweet